Animali maltrattati e costretti a vivere tra gli escrementi in spazi ridotti, locali di deposito del latte crudo con muffe, infiltrazioni, umidità e ragnatele, aree per lo stoccaggio dei mangimi prive dei requisiti igienici, veri e propri allevamenti lager, quelli scoperti in Abruzzo dai carabinieri del Nassa di Pescara che hanno ispezionato in tutta la regione 24 strutture per l'allevamento di bovini da latte. Le criticità principali sono state riscontrate nell'Aquilano e nel Terramano, significativo il bilancio dei controlli condotti con il supporto dei servizi veterinari delle ASL, due persone denunciate per concorso in maltrattamento di animali, sei segnalate alle autorità sanitarie ed amministrative per violazione in tema di igiene in allevamenti, sale di muncitura e depositi, 110 bovini sottoposti a vincolo sanitario per carenze in materia di identificazione e marchi auricolari, 24 bovini sottoposti a sequestro penale per maltrattamenti, 220 quintali di mangime sottoposti a vincolo sanitario e per cinque aziende agricole di vieto di uso dei locali privi di requisiti igienici contestate inoltre violazioni amministrative per oltre 30 mila euro. Immaginate che c'erano degli allevamenti dove gli animali erano fra spigoli vivi, fra recensioni, fra reti, luoghi insomma dove potevano anche procurarsi in potenza del male. È importante guardare alla salute dell'animale perché parliamo di animali che poi sono animali da latte. Oggettivamente ecco anche le immagini insomma che sono a margine di questa di questa attività documentano come potessero non vivere in condizioni di benessere. Il benessere animale è importante, l'abbiamo verificato in tutte le situazioni che abbiamo ispezionato.